Il progetto Empatia praticamente nasce intanto sulla scorta della volontà di Diabetitalia a rete associativa nazionale che in collaborazione con Personal Live, con il supporto non condizionante di Roche, c'è la volontà di sensibilizzare la popolazione su questa problematica. Quindi 25 dipendenti comunali sono stati selezionati e si sottoporranno per un giorno a condurre una vita come una persona con diabete. Questo vuol dire controlli glicemici pre- e postfandiali, avranno degli alert sul cellulare, alla fine della giornata compileranno un questionario per dire come gli è parso vivere con questa problematica addosso. Questo crea ovviamente empatia, crea maggiore consapevolezza perché nella diabete tipo 2 in particolar modo si può fare prevenzione, quindi se le persone conoscono la malattia possono agire preventivamente per condurre un corretto stile di vita che vuol dire mangiare bene e praticare attività fisica regolarmente. Il Comune di Mesania è il primo ente pubblico a sposare questa progettualità. L'obiettivo è quello di sensibilizzare le persone a conoscere questa patologia e a far comprendere come sia possibile convivere con questa patologia. Le persone che hanno il diabete sanno come comportarsi, sanno quale strada prendere. Chi non ce l'ha di fatto non riesce nemmeno ad aiutare le persone a fare le scelte giuste. Basta pensare ai bambini che nelle scuole, negli asili scoprono di avere il diabete e non sanno fare le scelte giuste. Quindi anche l'intervento per esempio di una maestra che riesce a fargli fare le scelte giuste rendendolo consapevole che la sua vita non è limitata a delle scelte ma che bisogna fare delle scelte più corrette. Questo aiuta sicuramente ad empatizzare con questa patologia. Qual è la giornata tipo di una persona che ha il diabete? La giornata tipo di una persona con il diabete è complessa perché deve convivere con la misurazione della glicemia. Mediamente possono esserci anche 5 misurazioni al giorno bucandosi con un pungidito, misurandosi su strisce, su un glucometro ma oltre a questo ci sono impatti funzionali ma anche psicologici quindi bisogna progettare proprio la giornata.